Scontro fatale poco dopo le 12 lungo via Adriatico a Jesolo. Un motociclista cinquantenne per cause ancora da accertare si è scontrato contro un'auto. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono giunte immediatamente le ambulanze e l'elisoccorso del 118, che ha trasferito il Centauro nell'ospedale di Mestre, dove è stato sottoposto a un disperato intervento chirurgico, ma dopo poche ore il cinquantenne è morto per le gravi ferite riportate in seguito all'impatto. Solo due ore più tardi, sempre a Jesolo, un altro motociclista cinquantenne è rimasto coinvolto in un incidente, scontrandosi anche lui con un auto. Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sandona di Piave.